Ore frenetiche prima della ufficializzazione dei candidati in corsa alle elezioni regionali. Nel centro-destra si lavora la composizione delle liste collegate al candidato presidente Donato Toma. Intanto è attesa nelle prossime ore la posizione ufficiale di Michele Iorio, ma restano i malumori nella coalizione. Il 24 marzo, data nella quale verranno ufficializzate liste e candidati in corsa alle prossime elezioni regionali, è sempre più vicino. Nel centro-destra si sta lavorando senza sosta per compattare quante più liste possibili intorno al nome di Donato Toma. Secondo indiscrezioni, sarebbero già una decina le liste collegate al nome del commercialista Campobassano, ma c'è chi scommette che il numero di candidati potrebbe aumentare ancora con il passare delle ore. Intanto domani il consigliere regionale Michele Iorio dovrebbe ufficializzare nel corso di una conferenza a stampa il suo sì condizionato a Toma. L'ex presidente della regione infatti non ha mai nascosto i malumori, non tanto per il nome del candidato presidente, quanto al contrario per le modalità con le quali il centro-destra sta ruolando candidati nelle liste per la sfida decisiva del 22 aprile. A Iorio non va giù il fatto che diversi consiglieri regionali, che per cinque anni hanno condivise e avvallato tutte le decisioni prese dal governo regionale, con riferimento alla sanità, le aziende partecipate, all'Egam e alla legge elettorale, abbiano tolto la casacca del centro-sinistra e indossato quella del centro-destra. Una prassi già verificata sia a parti rovesciate nel 2013, ma che questa volta rischia di rappresentare un boomerang per il centro-destra. Oggi infatti l'avversario ad abbattere il Movimento 5 Stelle reduce dal 45% di consensi ottenuti lo scorso 4 marzo e l'effetto trascinamento per i pentastellati potrebbe essere agevolato da una coalizione inquinata da candidati in fuga dal Titanic del centro-sinistra. La stessa preoccupazione di Iorio è condivisa anche da Michele Marone, coordinatore regionale del movimento politico Energie per l'Italia, che per ora tira dritto verso una candidatura autonoma alla presidenza dell'Aggiunta regionale, con il sostegno del Movimento Agricolo Molisano e dell'ex consigliere regionale Antonio Di Rocco. Ma se con Marone un'intesa è ancora possibile, per Toma appare una missione disperata a riuscire a convincere i movimenti Coscienza Civica di Massimo Romano e creare futuro di Antonio Tedeschi, due delle forze che hanno dato vita al progetto della Confederazione Civica. Per Romano e Tedeschi il profilo politico di Toma non rispecchia le qualità da loro richieste, in primis quella di essere garante di tutte le forze politiche, venendo Toma da un'esperienza di assessore esterno al comune di Boiano, nell'Aggiunta guidata dal fratturiano Marco Di Biase, ed avendo al contempo un ruolo di primo piano all'interno di sviluppo Italia Molise. Ad ogni modo Coscienza Civica e Creare Futuro scioglieranno a breve le riserve e non è escluso a questo punto che i due movimenti possano decidere di non partecipare alle elezioni in aperto dissenso con gli altri partiti della coalizione.